Effettivamente è il secondo anno che abbiamo il piacere di partecipare qui ad EnergyMed come Commissione Fonte di Innovabile e come Ordi di Reduttori Commercialisti di Napoli. Il nostro compito, la nostra missione è quella di essere di supporto un po' agli imprenditori che per ovvi motivi lavorativi hanno un approccio alle fonti rinnovabili e ai finanziamenti in generale.